Dopo due anni di restauri tornano a risplendere gli affreschi nella cupola della chiesa di Santa Maria in Valicella a Roma. Donatella Ansuovini. L'effetto dopo che si è scesi dall'elevatore che in tre minuti fa guadagnare ben 40 metri d'altezza è di quelli in mozzafiato. 300 metri quadrati di personaggi biblici, angeli, nuvole che avvolgono la cupola senza soluzione di continuità in un movimento che non conosce sosta. È il capolavoro di un genio del barocco universalmente conosciuto come Pietro da Cortona. L'immenso affresco delle storie dell'Antico Testamento realizzato dall'artista per la chiesa di Santa Maria in Valicella, detta chiesa nuova, è stato al centro di un complesso restauro durato due anni. Ha messo in luce cinque lesioni profonde, ha consentito di ricomporre queste problematiche, di consolidare la cupola e di riportare all'antico splendore gli affreschi. È tornato così pienamente leggibile il mirabile compendio di tutta la storia del cammino mistico dell'uomo. Realizzato da Pietro da Cortona attraverso immagini iconiche dei personaggi della Bibbia in un richiamo continuo fra loro. Da quassù si possono cogliere tutte le sfumature dello straordinario dialogo tra le figure di Cristo e Dio Padre affinché quest'ultimo interceda per la salvezza dell'umanità. Il restauro ha visto la collaborazione di due ministeri, quello dell'interno con il ministro Matteo Piantedosi attraverso il finanziamento da parte del Fondo Edifici di Culto e quello del Ministero della Cultura con la realizzazione del restauro da parte della superintendenza speciale di Roma. Queste cose si fanno se si ha una grande passione civile, una passione per l'arte, una passione per la cultura. Quindi complimenti a chi si è impegnato tantissimo e faremo tante altre cose di questo tipo.